Ho messo un altro, tra la gente, il cerco di Genico, come tutti quanti dicevano di rimanere nel silenzio, che Dio ama stare, non avete dato lo scrittore Marco, Luca o Matteo, Marco lo chiama Barnaba, e mentre lui sente che c'è rumore di gente, lui comincia a gridare Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me, e poi gli diceva, ehi, shut up, sta zitto, non parlare, non parlare, zitto, e lui più lo diceva di stare zitto, e più lui gridava, sapete cosa ha fatto? Siccome Gesù ama stare tra la gente, ma Gesù ha detto, io non sono venuto per essere servito, sono venuto per servire, molti hanno preferito rimanere in silenzio nascondendo il loro problema, il loro bisogno, alleluia, a volte questo è quello che capita, a me, a volte alcuni sono spettatori, mentre altri allodano, altri rimangono in silenzio nel banco per vedere cosa succede, Dio non ti farà cadere nulla, alleluia, 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 e sapete che Gesù sapeva il bisogno di quel uomo e gli ha detto, cosa vuoi che io ti faccia? E lui ha detto che io recuperi la vista, alleluia, se altri avessero detto, signore opera nella mia vita, signore aiuta la mia famiglia, signore fammi trovare un buon lavoro, signore guarisci, se altri avessero gridato al signore, io avrebbe risposto alla loro preghiera, e non è quello che avviene alla chiesa, se tu rimani in silenzio, rimanere il tuo silenzio, ma se tu lo adori e chiedi qualsiasi cosa ce l'ha a tuo cuore, lui nonostante sacco del tuo bisogno, ti dirà cosa vuoi che io ti faccia, Gesù non ha detto chiedimi solo una cosa, chiedimi tutto ciò che tu vuoi, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, capito? alleluia, è Gesù che lo sappiamo, qualsiasi cosa, signore sto attraversando un periodo difficile nella mia vita, beh se noi parliamo con Gesù, lui ci dirà non ti preoccupare, adesso mi prendo io quello del tuo bisogno, e prima che te ne accorgerai, vedrai che la tua vita prenderà una direzione diversa da quella che era prima, tra la gente, Dio ama stare tra il suo popolo, è la dimostrazione questa mattina, alleluia, alleluia, avevo tutto in mente, ovviamente, potrei leggere la scrittura, predicarla, non è quello che io voglio fare, ma sono detto, signore io stamattina ti faccio una richiesta, voglio che sei tu a prendere il controllo fino al primo momento, ho detto, signore se tu prenderai il controllo io non farò nulla, beh, fate questo genere di preghiera anche voi, così, per farlo nulla, alleluia, quando c'è Gesù, vedete, è la sua presenza che è passata con lo Spirito Santo, questa è la prova, la dimostrazione di quando a volte qualcuno dice, visto è venuto quel predicatore, e altri hanno ricevuto lo Spirito Santo, perché è venuto quel predicatore, questa dimostrazione che il predicatore è zero, ma è Dio che è tu, alleluia, non c'è nessun predicatore speciale, tranne che il Signore, alleluia, e prima che voi andate via, non possiamo andare via, mani vuote, come dire, mani piedi, dice, date se noi dobbiamo dare, sapete, ma in effetti viene fatta sempre prima, chissà fai dopo che non muore questo, quindi vorrei chiedere il fratello Andrea di pregare per lui.